Una cerimonia online anche quest'anno per inaugurare l'anno giudiziario che come lo scorso anno è stato condizionato dalla pandemia ancora in corso. Al Tribunale di Salerno questa mattina l'accesso solo per alcune delle alte cariche istituzionali. Il prefetto di Salerno Francesco Russo e il questore Maurizio Ficarra, i comandanti delle forze dell'ordine, l'arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. La presidente della Corte d'Appello di Salerno Iside Russo nella sua relazione ha esaminato lo stato della giustizia del distretto salernitano, in primo piano la lotta alla criminalità, il settore penale civile, la giurisdizione civile e penale minorile. Una fotografia dove anche quest'anno la pandemia da Covid ha rimescolato le carte, ha imposto il ricorso alla tecnologia, ha amplificato le carenze di organico ormai storicizzate. Una lunga relazione dove è stato esaminato il quadro della giustizia tra criticità e segni di miglioramento, non dimenticando però che il raffronto con gli anni passati si muove più o meno sulla stessa linea. La pandemia e la decretazione d'urgenza e i DPCM che proseguono a ritmo continuo, con difformità di discipline, a volte con vuoti normativi, hanno ancora una volta condizionato i processi. La carenza di organico, ha detto la presidente Iside Russo, rende complesso riuscire a rispettare il termine introdotto dalla legge di riforma del processo penale di due o tre anni decorrenti dal novantesimo giorno dalla scadenza dei termini di deposito della sentenza di primo grado, ma nonostante la pandemia i dati statistici evidenziano risultati molto soddisfacenti. Le acquisizioni investigative e probatorie riportate nelle relazioni degli uffici di procura e delle forze dell'ordine confermano il controllo della legalità sul territorio esercitato nel distretto dai magistrati, sempre affiancati dall'incessante lavoro investigativo delle forze dell'ordine. La drammaticità della crisi economica fa crescere la microcriminalità, aumentano aggressioni, liti e risse talvolta sfociati in pestaggi e accoltellamenti con il coinvolgimento di minori.